Mi chiamo Letizia Maulà e sono una musicista originaria di Villa d'Almè, della provincia di Bergamo. Insieme alla violoncellista Silvia Cempini, nata ad Ancona e cresciuta a Monaco di Baviera, costituiamo il Phoenix Ensemble. Ci teniamo a condividere i nostri pensieri per questa importantissima ricorrenza che personalmente mi rende particolarmente legata. Al momento sono confinata in un piccolo villaggio della campagna francese in Borgogna e Silvia invece è a Monaco di Baviera. Ci siamo domandate spesso durante questo periodo, fatto di lutti, di infinite emozioni contrastanti e di incertezze, come avessero fatto i musicisti e i compositori durante la Seconda Guerra Mondiale a continuare ad avere la necessità di suonare e di comporre quando tutto sembrava più importante. Ebbene, quello che noi abbiamo bisogno esattamente è tenere accesa la fiammella della speranza e dare un senso alla vita in nome della bellezza, nonostante tutto. Suoneremo l'andantino del duo di Erwin Shuloff, che è un compositore di origini ebraiche che è morto nel campo di concentramento di Wolfsburg nel 1942. Anche il duo di Erwin Shuloff, Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.